Proseguono gli incontri tematici con i cittadini sul piano urbanistico generale di Martina Franca. Il sindaco Franco Ancona e l'ingegnere Lorenzo Lacorte, progettista e coordinatore dell'ufficio piano, negli ultimi due incontri hanno illustrato i possibili scenari previsti dalla bozza del piano relativamente al sistema produttivo, ma anche servizi e spazi pubblici. Perché partiamo dall'ambiente del territorio? Perché lo riteniamo il luogo dove vivono tanti i nostri concittadini, che lo tutelano e che contribuiscono a tramandarlo alle prossime generazioni. Ora, studiare l'ambiente del territorio significa identificare tutti i beni che stanno in quel territorio, che possono essere utili sia ai cittadini che vivono, sia ai turisti che vengono sul nostro ambiente. Ecco, in questo modo noi, parlando di alberi monumentali, delle nostre foreste, dei corsi d'acqua e altri valori che sono presenti sul nostro ambiente, mettiamo in evidenza tutto quello che è necessario valorizzare.